Io volevo, intanto le riporto il fatto che Baroni ha dichiarato che il Bologna è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia per presentare la difficoltà della sfida. Vado lontano dal vero e dal fotografare quella che sarà la prossima partita per voi se dico che siete separati da molti punti in classifica ma che una cosa in comune ce l'avete, cioè siete entrambe due squadre con un'identità precisa e che sanno il campionato che stanno facendo, cosa che forse rende pericoloso Verona. E stanno in forma, stanno in forma. Come tutte le squadre che abbiamo affrontato fino ad oggi e ancora di più domani. Grande rispetto per l'allenatore perché vedo, considero un grande allenatore per il lavoro che fa, il modo che lo fa e questa squadra oggi è una squadra molto molto complicata da affrontare perché sa quello che vuole, sa quello che sta giocando, sa cosa deve fare in campo e sta in un buon momento. L'ultimo pareggio con la Juventus è prova del momento che stanno attraversando ma tutte le altre partite che hanno fatto non ho visto mai un'altra squadra metterli veramente in difficoltà. E questo lo sappiamo, massima concentrazione per la partita di domani. A proposito di questo, tra le tante soluzioni dei puzzle che hai dovuto cercare di risolvere quest'anno, quello di Verona è stato uno dei più complicati all'andata anche se la squadra è cambiata moltissimo. Avevi detto che in questo calcio moderno affrontare le squadre che si chiudono è sempre difficile per qualsiasi squadra di qualsiasi livello. Ecco, che soluzioni adotterai per cercare di affrontare questo stacco? Il Verona non è una squadra che solo sa chiudersi. Il Verona quando va a pressare forte in avanti è una squadra che pressa, è una squadra che tutti lavorano molto bene e si vede molto bene allenata. Sulla nostra costruzione bassa sicuramente vendranno, non aspettano indietro. E poi sì, se noi siamo capaci di con il nostro gioco costringere all'avversario di abbassarsi, è una squadra che tutti difendono. E lì sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che è un momento importante della partita perché per entrare è una squadra che tutti difendono e difendono con aggressività. Dobbiamo giocare molto bene e dobbiamo essere molto, molto attenti alle ripartenze perché è una squadra che anche lì è molto pericolosa. Siamo pronti a fare una grande prestazione contro una squadra che è in grande forma in questo momento. Sarà una bella partita, sarà una bella partita giocata e dobbiamo competere sempre. All'interno di questo discorso che abbiamo fatto sul Verona, quanto l'hai impressionato il fatto che abbiano tenuto questo livello di identità con un cambio quasi radicale di Rosa? Perché a gennaio hanno cambiato tante cose, magari non proprio tutti, ma è la squadra che ha cambiato di più. Difficilmente da fuori si possa sapere cosa succede dentro un espogliatoio. Se tu non sei dentro, non partecipi, è il mio caso sul Verona, però la impressione da fuori è anche che con il mercato chiuso sono diventati ancora più solidi, più magari solidari tra di loro dentro al campo. È diventata una squadra più pericolosa e questo è importante saperlo, è importante come sempre avere rispetto e è importante che noi andiamo al 200%. come tutte le partite abbiamo fatto e domani nello stesso modo. È importante anche il numero che ha detto prima Federico, cioè lo stadio praticamente per i tifosi di Bologna, la conferma che quello che state facendo, quello che avete fatto, il modo in cui state andando in campo coinvolge sempre più la città, oltre ai risultati, ma penso proprio il modo. Bellissimo, conta sicuramente il risultato, lo sappiamo tutti, è una cosa che è molto importante in questo gioco, se non la più importante, però è una responsabilità in più per noi, una bella responsabilità perché sappiamo che giochiamo per un qualcosa di molto più grande di noi stessi, per le emozioni, per dare soddisfazione anche alla nostra gente che viene a sostenere la squadra, viene a dare una grandissima e sono convinto che domani ognuno che ognuno che vendrà al campo vendrà con l'espirito come dei nostri ragazzi in campo positivo, pensando sempre in aiutare, pensando sempre in dare un minimo che possa essere contributo perché la squadra possa giocare al massimo e questo parte tanto anche dei nostri ragazzi dentro al campo che entreranno al campo come sempre con la stessa mentalità, pronti a combattere, a lottare, a giocare al massimo, per alla fine avere il risultato che vogliamo tutti. Volevo chiederle, il Bologna è la squadra che è migliorata di più dopo l'Inter, ha fatto dieci punti in più dell'anno scorso, allo stesso punto del percorso, pensa che abbia ancora ulteriori margini? Penso che domani è una partita molto importante per noi, per i vari motivi e ragioni che ho dato prima e noi pensiamo a questa cosa qua, noi pensiamo al Verona, pensiamo a cosa dobbiamo fare, pensiamo a cosa dobbiamo evitare, come comportarsi, come giocare per alla fine poter dare soddisfazione a noi stessi ma soprattutto alla nostra gente che se lo meritano. L'ultima per me, volevo chiederle, c'è stata una petizione per lei intitolata Tiago resta con noi, volevo chiederle che tipo di emozioni e di pensieri le porta. Ringrazio tantissimi tifosi per il loro affetto e in particolare Giovanni Bertelli, in particolare perché è bella questa cosa qua, ma sono sicuro che loro come noi pensano soprattutto al domani di fare una grande prestazione insieme contro una squadra come quella del Verona e è questa la cosa più importante per tutti noi, prepararsi, essere pronti per fare una grandissima prestazione domani. Tu hai firmato? Tu che hai fatto la domanda hai firmato? Bene. Tra le varie caratteristiche della squadra di questo Bologna c'è anche il fatto di, non so se il termine è corretto, cucinare un po' gli avversari a fuoco lento, nel senso che i numeri dei secondi tempi sono numeri importanti, oltre alle rimonte dove siete primi, il Bologna è una squadra che segna tanto nell'ultimo quarto d'ora, che subisce poco nell'ultimo quarto d'ora, solo l'Inter subisce meno gol nell'ultimo quarto d'ora, quindi ci sono proprio numeri di secondi tempi dove 12 punti recuperati nei secondi tempi rispetto all'intervallo, non so se è un caso. Ci sta anche tantissimo, ci sta anche il livello delle avversarie che affrontiamo, la ultima che abbiamo affrontato è la Lazio, una grande squadra del campionato, tre giorni prima aveva vinto contro il Bayern Monaco, il primo tempo l'ho visto e l'ho rivisto, una squadra che ha giocato tantissimo sui nostri errori e che non è la prima volta che una squadra affronta la nostra in questo modo e gli abbiamo concessi qualche errore nel primo tempo dove loro hanno approfittato una e poi altre hanno cercato di punire la nostra squadra arrivando a un altro gol. Per lavoro di squadra e per il singolo, perché mi ricordo il salvataggio di John dopo degli errori siamo commessi dalla parte nostra, siamo rimasti in partita, però anche nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel primo tempo abbiamo giocato bene, solo che di fronte abbiamo una squadra di livello della Lazio e non è mai facile affrontare delle squadre da questo livello qua. Poi nel secondo tempo si è aperta un po' di più la partita, la Lazio ha voluto anche loro arrivare un po' di più, la partita è un po' più aperta e la nostra squadra è cresciuta tantissimo e meritatamente siamo arrivati alla vittoria. È un caso, non credo che sia un caso nel secondo tempo, è chiaro che come dico sempre ogni partita ha la sua storia e quando la squadra avversaria si apre in questo modo noi pronti ad approfittare. E se non si aprono, se vogliono chiudersi, noi pronti a fare il gioco che serve per poter entrare e per non lasciare all'avversario la possibilità di ripartire che è normalmente quello che vogliono. Lo chiedevo perché sono numeri generali del campionato che state facendo molto meglio nel secondo tempo e immagino anche la forza dei cambi che spesso entrano con la testa giusta. Questo è una cosa interessante perché abbiamo già parlato in tante settimane e non è facile, lo so, tanti ragazzi in squadra, tutti si allenano molto bene avendo l'idea di poter giocare da titolare è solo che solo possono iniziare 11, abbiamo la possibilità dei 5 cambi e normalmente i 5 cambi ci ha dato un plus. Arriva la stanchezza, normale che sia, arriva il momento di fare dei cambi dove i giocatori che entrano possono dimostrare ma soprattutto apportare e contribuire al gruppo, alla squadra e riusciamo a fare bene. È una cosa da continuare, tutti sanno che sono importanti e che giocando 90 o 10-15 minuti possono fare la differenza. Ciao Tiago, nelle ultime due sfide da titolare è partito John Lukumi come difensore centrale di sinistra, ti chiedo come si è allenato lui, come si è allenato Calafiore in settimana, come li vedi in questo ballottaggio per una maglia, se è tra loro due e soprattutto che cosa cambia a livello di impostazione con il pallone se gioca Lukumi o gioca Calafiori, col pallone o anche senza palla, cioè quali sono le differenze se gioca uno o gioca l'altro. E Calafiori, terzino, l'hai visto nei finali di ultime due partite, è una soluzione anche dal primo minuto? È stato sempre una soluzione. Riccardo può giocare perfettamente in quel ruolo, è il suo ruolo che in precedenza giocava sempre o quasi sempre, quando si giocava a quattro. Non è la concorrenza John e Riccardo, perché c'è anche dall'altra parte, ha giocato John insieme a Riccardo, hanno giocato insieme, possono giocare insieme, perché si completano tantissimo, sono giocatori diversi, ognuno con la sua caratteristica. John è un ragazzo molto tecnico, è un ragazzo che sulla uscita da dietro vede dei passaggi importanti, dove può dare una soluzione e una costruzione contro le squadre che vengono a pressare. Riccardo ce l'ha in un modo diverso, ce l'ha portando palla, ce l'ha con inserimenti senza palla anche. Sono due giocatori che in questo momento stanno molto bene, si allenano molto bene, meritano di giocare e come dico possono entrare solo 11. La cosa più importante è che la accettano, non sono contenti quando non giocano, rispettano e continuano a lavorare molto bene, perché sanno che o entrano durante la partita o per la prossima sono giocatori importanti per questo gruppo. Ciao Tiago, buon pomeriggio. Contro Lazio sono rimasto stupito dalla maturità di Urbanski nella gestione del pallone. Le volevo chiedere se nell'ultimo periodo ha visto un miglioramento anche durante l'allenamento oppure serviva a lui solamente un periodo di adattamento? Casper ha giocato già in un ruolo che lo può fare ma non è il suo, anche se l'anno scorso nella primavera ha giocato in un modo diverso perché veniva spesso dentro e ha giocato da esterno. Con noi ha fatto l'esterno di sinistra, ha fatto l'esterno di destra, ha fatto mezzala. è un ragazzo che sente il gioco. Penso che migliora perché il suo comportamento, il suo atteggiamento è fantastico. Sa quello che può apportare, è molto convinto delle sue possibilità. e queste convinzioni magari prima gli faceva anche una... non voglio sbagliare la parola ma gli faceva anche un qualcosa di non tanto positivo nel momento che stava attraversando perché era un ragazzo che stava iniziando anche se lui in testa sua sapeva perfettamente delle sue condizioni, prima lo doveva dimostrare e avere il rispetto dei suoi compagni nell'esplogliatoio, in squadra e se l'ha conquistato, se l'ha guadagnato giorno dopo giorno perché se lo... voi lo vedete in partita, l'ultima partita che è entrato all'Olimpico, avendo questa età, con questa personalità e con questo gioco, senza nascondersi, volendo la palla, facendo le scelte giuste, non è facile. Per lui ce l'ha perché è un ragazzo che ha una potenzialità enorme, però è un grande lavoratore e giorno dopo giorno si guadagna il rispetto dei compagni perché io li vedo in allenamento, gli dico sempre, stupido non sono, sono stato anche da questa parte e vedo i comportamenti in allenamento, vanno forti, con lui vanno molto forti e sembra che non sente mai il dolore perché quando prende delle botte in allenamento o si alza perché hanno riuscito a buttarlo per terra o rimane in piedi, continua e questo ha fatto che gli altri hanno visto che questo ragazzo è una pasta diversa e che può fare parte di questo gruppo perfettamente e oggi è un ragazzo che dà tantissimo non solo in allenamento ma quando gioco, quando deve entrare e si è guadagnato dà solo un spazio nel gruppo per poter partecipare, poter contribuire. Però, ripeto, grande parte ha la sua mentalità che all'inizio era qualcosa di non tantissimo positivo, di una parte sì perché era molto sicuro di se stesso ma dell'altra doveva dimostrare in questo momento continua a essere convinto e lo dimostra perché ha la possibilità di dimostrare questo ha fatto che ha guadagnato grandissimo spazio nel gruppo e deve continuare così. Ciao Tiago, c'è la crescita evidente di tantissimi giocatori, ci sono meriti che arrivano a te ma arrivano tutta la squadra perché avete creato, riguarda il gioco, tutto quello che avete creato e si vede. Ma a te, quando sei in panchina, vengono i brividi a vedere giocare la tua squadra? Vengono i rividi calcistici ovviamente. Io, come sono uno molto emotivo e vivo molto la situazione, vivo il presente in un modo fantastico, queste sensazioni che si vivono nel momento io la vivo al 200% quando le cose vanno bene, quando le cose vanno meno bene e è chiaro che sono umano a cuore e quando i ragazzi fanno delle cose fantastiche in partita che spesso lo fanno mi diverto anch'io fuori da vedere. Mi sorprendo certe volte, certe volte no perché li vedo tantissimo in allenamento e so di cosa sono capace di fare. però la cosa che mi impatta di più è l'espirito che hanno quando si vede questa voglia di competere, questa voglia di andare a recuperare, questa voglia di aiutarsi con e senza pala è il momento che mi dà più soddisfazione quando sono in panchina. Poi con tranquillità rivedo le partite e poi si analizza sempre a profondo quello che possiamo migliorare. però durante la partita sono così e penso che si vede lo vivo veramente in un modo forte. Era una cosa veloce, più bello il gol di Zirkzee con la Lazio o quello di Folorunsch con la Juve? Se vai a vedere solo il gol Folorunsch è più bello. Se vai a vedere l'azione è il nostro quello che finisce Joshua è più bello che lì. Poi dipende da gusti. Nel mio gusto è quello di Joshua. Sicuramente altri possono pensare diversamente e la rispetto perfettamente perché è stato un bellissimo gol anche quello di Folorunsch. Ciao, ciao mister, buongiorno. Senti, lo spirito della squadra è anche un po' quello che c'è anche nell'ambiente perché non è banalissimo che tornate da una vittoria domenica e vi accolgono centinaia di persone. Allora volevo chiederti visto che tu comunque vivi dentro la città dentro l'ambiente quando andrai a decidere non ti lo chiedo ovviamente cosa ma quando andrai a decidere se rimanere o no peserà un po' questo affetto o il professionista comunque deve scendere un po'? No perché non sono così non sono solo perfezionista sono umano e l'ho detto prima tutto l'affetto che mi hanno dimostrato fino ad oggi i tifosi sono da ringraziare penso sinceramente di non meritarmi tutto questo affetto perché faccio il mio lavoro al massimo ma è il mio lavoro e per questo ho grande gratitudine per queste persone sono grato veramente per questa per quello che mi trasmettono sono veramente solo da da ringraziare sicuramente tutte le decisioni che prendo non solo questa viene il mio lato anche emotivo non sono solo un professionista sono umano e lo sento così sempre vediamo vediamo mi vediamo da dove vieni derby 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 derby.it sportssenators.it denordest.it ma sono cose piccole e le chiedo questo mister nel suo calcio nel suo carattere magari un po' traspare c'è ancora qualcosa di nel mio carattere un po' quello che le sto per dire c'è ancora qualcosa di brasile c'è ancora qualcosa di brasiliano sicuramente di calcio brasiliano di calcio spagnolo e poi le chiedo cosa ha rappresentato quella volta che venne lanciato ancora più giovane di oggi da Enrico Preziosi in panchina così giovane se vi sentite ancora se c'è gratitudine se poteva andare diversamente insomma visto che lui è un grande talent scout di allenatore insomma oltre che essere stato la persona che l'ha portata in Italia a suo tempo da calciatore grazie poi vedere cosa significa per lei il calcio brasiliano sicuramente io sono nato in Brasile e qualcosa di brasiliano esiste esisterà sempre ho avuto ho avuto una famiglia che mi ha dato un tipo di educazione in Brasile fino a 15 16 anni e rimane rimane rimarrà sempre poi l'altra domanda la la spagna ho passato penso che otto anni sette otto anni sì con Barcellona e Atletico di Madrid è una parte importante della mia crescita come giocatore come persona facendo tante cose bene tante cose altre da da migliorare come come persone come giocatore di calcio e ho imparato tantissimo già uscire da casa quest'età non non è una cosa per scontato però mi ha fatto molto bene perché ho conosciuto una cultura diversa conosciuto delle persone che pensavano in un modo diverso e questo mi ha fatto anche aprire un po' la mia la mia mente non solo nel calcio se non tutte altre cose e su preziosi o un gran una grande gratitudine sono molto grato al presidente preziosi perché mi ha portato in italia quando era un momento molto molto complicato nella mia carriera dopo tre interventi al ginocchio all'Atletico di Madrid sono arrivato a al Genoa anche tanti dottori dicevano che non potevo più giocare a calcio e lui ha scommesso e lì si vede una persona molto coraggiosa con un istinto particolare perché non era facile non aveva bisogno però lui ha questa cosa e poi sono stato allenatore non non ho nessun rimpianto perché anche se la mia moglie Angela mi diceva di no perché non era il momento io pensavo di sì ero convinto di sì e non ho sbagliato non ho sbagliato perché lì ho visto tante cose ho imparato tantissimo mi dispiace non aver aiutato di più mi penso che e lo penserò sempre che lo potevo fare però allo stesso momento ringrazio tantissimo lui di avermi dato questa opportunità di meno di non aver aspettato un attimo però riesco a capirlo non sono d'accordo ma riesco a capirlo e è un'altra persona che solo devo e solo devo ringraziare per tutto quello che mi ha dato per tutto quello che ha fatto e io penso di averlo contribuito nello stesso modo e allora siamo i due contenti sicuramente lei è stata la juve club atletico juventus o juventus da moca è un club minore di san paolo che ho iniziato quando era piccolo poi sono andato altre squadre è stata l'ultima squadra in brasilia che ho giocato stavo andando alla prima squadra quando quando sono andato al barcelona e belli ricordi belli ricordi di queste squadre perché ho partecipato e ho passato tanto tempo della mia vita lì dentro belli ricordi grazie